Antonio Di Pardo, una vita nello stabilimento Stellantis di Termoli, in carichi sindacali importanti e oggi da amministratore del territorio, come sindaco di Petacciato e consigliere dell'Assemblea Generale del Coseba, si vive la preoccupazione per quelle che sono le sorti dell'insediamento produttivo più importante del Modisi. E' un momento particolare, sicuramente difficile per quanto riguarda tutta la collettività, principalmente del nostro territorio, ma a livello nazionale, dove la sicurezza di quella che erano gli anni 70, 80 e 90, 2000 è un po' sparita, sparita perché è cambiato il mondo industriale, perché Fiat non rappresenta più l'unica realtà industriale nazionale, avendo fatto altre scelte negli anni a seguire. Quindi credo che nonostante la difficoltà, nonostante l'incertezza, non va persa assolutamente il buonsenso nel governare a meglio queste situazioni. Le organizzazioni sindacali sul territorio stanno facendo un ottimo lavoro e gli va dato merito di tutta la loro importante sinergia per cercare di trovare la soluzione ottimale che possa rimettere in carreggiata Stellantis anziché la nuova società che era l'ACC Gigafactor con la costruzione di batterie. È un momento difficile, è vero, però io credo che come sempre, almeno da quello che ho potuto vivere negli anni, se c'è il buonsenso di affrontare insieme la situazione con quelli che sono i governi regionali, i governi nazionali, i governi europei, io credo che si possa trovare sempre la strada giusta. E' stato anche l'unico rappresentante di un mondo politico a partecipare al presidio del 12 settembre in Piazza Monumento. Era un atto dovuto, un atto dovuto senza guardare minimamente alle colorazioni politiche, destra, sinistro, centro. Io ho cercato di rappresentare il mio territorio che è pedacciato, dove lavorano centinaia di lavoratori e che oggi si vedono, vivono l'incertezza. Quindi chi meglio dell'istituzione locale, come il sindaco, l'amministrazione, non deve assolutamente mancare a certi appuntamenti e quindi dare il proprio contributo. Io non sono tanto d'accordo quando durante questi presidi, queste manifestazioni, ci si arrocca la capacità e l'ingenuità di rappresentare i partiti come qualcuno ha in mente di fare, come qualcuno sta cercando di fare, come qualcuno sta cercando di organizzare riunioni al chiuso, identificandosi nel simbolo del partito. Ecco io credo che questo non porti da nessuna parte. Sicuramente non gioverà ai lavoratori, ma non gioverà tanto meno al partito che qualcuno vuole rappresentare. Non dimentichiamoci che negli anni addietro, decenni addietro, quando forse ci sono state anche le condizioni di creare sviluppo, di creare sinergia con quello che doveva essere lo sviluppo del nucleo industriale del basso biferno di Termoli, come sviluppo, non c'è stato nessun partito che si è adoperato per creare questo sviluppo. A maggior ragione qualche nostalgico addirittura definisce creazione di posti di lavoro, posti occupazionali, una robetta. Io voglio sottolineare la cosa e ci tengo a sottolinearlo. Fino a qualche anno fa, parliamo di 3-4 anni fa, il nucleo industriale di sviluppo del basso biferno era ridotto quasi al lumicino. Non c'era effettivamente la possibilità di leggere il vero ruolo di quello che era del COSIB. Ecco bene, io lo dico con orgoglio e con fierezza che dall'avvento dell'attuale consigliere Roberto Di Pardo come presidente del COSIB c'è stata una svolta che ha dato la possibilità al COSIB di essere riconosciuto quello che rappresenta, ha dato la possibilità di dare all'imprenditore veramente un'attrazione diverso da quello che era la valutazione precedente e oggi già si avvertono insediamenti produttivi, quale l'azienda che vorrebbe produrre batterie con l'assunzione di 250 unità, 250 posti di lavoro. Quando si parla di robetta io credo che in un territorio ogni istituzione e ogni persona che fa parte di quell'istituzione deve preoccuparsi in primis a creare occupazione sul proprio territorio e l'occupazione si evidenzia anche da un'unica possibilità di posto di lavoro figuriamoci se ne sono centinaia. Quindi queste scenate, queste forme di allegria nel fare politica industriale io credo che fatta in quel modo da chi effettivamente oggi riveste il ruolo di rappresentare un partito non porti da nessuna parte. Un consiglio se mi è permesso di dare, facciamoci mente locale su quello che è stato veramente la realtà industriale di Termoli e chi ha lavorato affinché la realtà industriale di Termoli potesse arrivare ad oggi. Chiaro è che oggi vanno affrontate diverse criticità, difficoltà, ma sono fermamente convinto che il governo regionale attuale con il Presidente Roberti sarà in grado di dare anche questa volta lo strumento necessario per poter ridare voce, fiato all'industria molisana. Fiat, è inutile che ci illudiamo, aveva una sua lettura da rappresentanza industriale, realtà industriale fino a qualche decennio fa. Il mercato globale ha fatto sì che diventasse una multinazionale, ha fatto sì che comunque potesse esportare tutta la sua tecnologia in altri paesi, quindi oggi dobbiamo semplicemente fare i conti con questa realtà. Io credo, un altro passaggio che è molto importante e fondamentale per me, io credo che oggi stiamo pagando un attimo quello che sono state le disposizioni troppo affrettate di un governo centrale europeo. Un governo centrale europeo che ha quasi imposto lo smantellamento di realtà produttive che produceva motoprodussori, sia diesel che benzina, orientandosi sull'elettrico. Ecco, io credo che lì, e sono convinto che la cosa verrà rientrata in quelli che sono i canoni giusti, laddove l'elettrico ad oggi purtroppo in Europa e principalmente in Italia non ha tanto aggredito il mercato, è sotto gli occhi di tutti. Quindi io credo che ci vorrà del tempo per entrare in quei meccanismi, in quelle previsioni di industria basata sull'elettrico e dopo di che si potrà ragionare. Volevo ricordare un qualcosa che a me è molto caro quando ero segretario sindacale all'interno del stabilimento di Termoli, l'allora Marchionne, amministratore delegato unico che ha avuto la capacità di espandersi in America come industria, in un'intervista richiamava molto a fare attenzione sulla progettazione e produttività della macchina elettrica. Non era uno sprovveduto, aveva visto lontano e oggi stiamo pagando queste conseguenze. Quindi io credo che al sindacato, senza fare distinzione, al sindacato va dato merito di quello che stanno facendo, va dato supporto, va riconosciuto il grosso impegno che sta mettendo e sono fermamente convinto che ogni istituzione che rappresenta il nostro territorio e anche a livello nazionale saprà dare il giusto contributo affinché la cosa possa essere risanata.